Musica Buonasera, bentornati con la pagina sportiva. In primo piano l'Arezzo che si prepara alla trasferta di Alessandria per affrontare sabato la Juventus Next Gen. Intanto nei nostri studi è stato ospite Fabio Foglia, lo abbiamo intercettato prima della sua partecipazione a Sottoretti. Fabio quanto è importante il successo di fermo? È importantissimo, ci voleva dopo la sconfitta immeritata col Pineto, subita in quel modo lì, che poteva un po' destabilizzarci, diciamo che questa vittoria ci riporta sul nostro cammino. Senti, un po' è stato il segno del destino che sia stato proprio Guccione a ergersi come protagonista assoluto. Ma sicuramente un giocatore importantissimo per noi, insomma, il suo curriculum parla per lui, ecco, non è un rigore sbagliato a cambiare l'idea che abbiamo di lui e non sono i tre gol, per noi non sono così, diciamo, stupore o vediamo tutti i giorni quello che fa e siamo contentissimi, insomma. Senti, ma perché abbiamo sofferto così tanto? Ma è un campionato difficile, la verità è che secondo me si è alzato tanto il livello della C rispetto agli ultimi anni e penso che ogni partita purtroppo difficilmente finirà 3-3 o 4-0 o comunque senza soffrire, quindi entriamo nell'ordine di idee che sarà un campionato duro. E adesso la Baby Juventus, non è una squadra forte come nelle stagioni precedenti, però tecnicamente è sempre una squadra valida? Ma sicuramente è una squadra molto forte, tecnicamente come dici tu, sono giovani quindi un po' magari peccano di quella inesperienza, però noi non abbiamo bellissimi ricordi negli anni qui ad Arezzo con la Juve, quindi speriamo di invertire il trend e portare a casa punti. E adesso parliamo della Serie D, rivediamo tutti i gol dell'ultimo turno ricampionato. Rivediamo tutti i gol dell'ultimo turno ricampionato del Girone e della Serie D partendo dallo stadio Casini di Trestina dove era di scena il tau Alto Pascio che passa in vantaggio con l'attaccante rivelazione dell'anno Andoni. Il pareggio degli alto Tiberini e del talentuoso Dinolfo con un sinistro chirurgico. La capolista pianese è una squadra che non molla mai e proprio lo scadere con Couco trova il verso giusto per avere ragione del Sandonato Tavarnelle. Gol e Capriola per l'attaccante Amiatino. Il Seravezza non fa sconti e passa a San Giovanni Valdarno, sconfitta che costa la panchina Bencivenni, apre Camarlinghi e prima del riposo il risultato è blindato da Brugugnoni. Botta e risposta in Garfagnana con Carloni che regala il vantaggio al Ghiviborgo ma l'Orvietana, il carattere di Fierucci e Marsili, realizza il pareggio. Colpo del Gavorrano a Figline, Masini spinge in mare in mani ma Torrini di testa pareggia per i Valdarnesi, Talla Suare chiude i giochi a inizio ripresa. Tutto facile per il Livorno contro il Cenaia, Meng apre le danze, il raddoppio Labronico e Dinardi, sussulto della matricola Pisana con Macchia. Prima del triplice fischio Brenna chiude i giochi, botta e risposta tra Mobiliari Ponzacco e Grosseto. Cretella porta in vantaggio i Grifoni ma Panattoni rovina la festa. Il Grosseto chiude la rocambolesca sconfitta del Montevarchi con il Real Querceta. Viene e tira il segno per i versigliesi, Priore su calcio di rigore riporta in parità il risultato. E poi è Pardera che risolve da dentro l'area portando in vantaggio gli Aquilotti. Sembra fatta ma nel recupero succede di tutto. Il Real pareggia con questo rigore di podestà e addirittura quando l'arbitro starà per chiudere la partita, l'ex San Giovannese Vanni segna il gol partita e per Vanni sarà anche la rete dell'addio. E a proposito della partita di Ghivizzano il risultato non è stato omologato dal giudice sportivo perché il Ghiviburgo ha presentato reclamo a causa della posizione di un giocatore stierato dall'Orvietana che non avrebbe scontato una squalifica maturata nella stagione scorsa tra l'altro in un campionato giovanile. Intanto il giudice ha squalificato Sesti del Figline per due turni e alla pari del portiere del Montevarchi Dainelli che si è preso lo stesso numero di giornate entrambi dunque salteranno il derby di domenica. Un turno di squalifica anche a Brizzi del Sansepolcro. E parliamo anche di un'altra squadra toscana della Serie D che lo sta attraversando un bel periodo, ovvero l'Aglianese. A Carpi per 1-0 per un rigore di Saporetti, il tuo operativo Fabio Taccola, com'è andata secondo te al di là del risultato? Al di là del risultato del quale non voglio parlare perché è stata una partita a mio avviso, per come io l'ho interpretata, una partita brutta da entrambe le parti, una partita decisa da un episodio che è il rigore. Noi abbiamo avuto tantissime occasioni, però come si ripete sempre, se non si fa gol non si va da nessuna parte. Nelle interviste precedenti ho sempre detto che noi valutiamo partita per partita, facciamo le nostre valutazioni e sulla base della quale prendiamo le decisioni. Credo che questa volta sia arrivata l'ora che dobbiamo fare una valutazione di superficie, ma una valutazione molto attenta che vedremo le decisioni che prenderemo durante il corso della settimana e quella a seguire. Su che base? A livello tecnico o a livello societario? A livello societario non credo, a livello tecnico credo che dovremmo prendere delle decisioni importanti. C'è un silenzio stampa della società oppure no? Non è un silenzio stampa, c'è molto rammarico, quindi per rispetto tuo, delle testate giornalistiche e tutto, si dice solo due parole che sono queste. Abbiamo vissuto fino ad oggi facendo riflessione partita per partita, oggi è il tempo di fare una riflessione importante e vedere cosa dobbiamo fare. Bruttatevole per il Montevarchi, questa mattina il calciatore Andrea Casagni, che si è infortunato domenica scorsa in occasione della partita con il Real Forte Quercete, è stato visitato dal professor Cerulli, la diagnosi è stata impietosa, il ragazzo ha riportato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro, dovrà essere operato, stagione conclusa, auguri a Casagni. Quattordici incontri e quattro titoli da segnare tra intercontinentale e europeo e italiano torna il galà degli sport da combattimento al Palaestra. Mario Dagata. Sono già 800 le prevendite, numeri che non lasciano dubbi sul valore acquisito dalla manifestazione in crescita costante negli anni. Quella di domenica 26 novembre sarà l'edizione numero 26 per le stelle del ring, il gran galà degli sport da combattimento con la kickboxing protagonista. Quattro i titoli che verranno assegnati tra intercontinentale, europei e italiano. I mesi di spicco abbiamo Tolea-Ciumac contro Sebastian Zilicato che fanno un intercontinentale. Ok, Ciumac è una leggenda in Romania, è molto conosciuto nel mondo dei sport da combattimenti. Invece Sebastian Zilicato è un atleta comunque sia molto promettente, ma comunque giovane in confronto a Tolea. Poi c'è Velea che rifà il titolo italiano che è un ragazzo di Guida Rezzo, di VKN contro un altro compaesano tuo che ovviamente vive in Italia. E abbiamo Agaliu che fa il titolo che è un ragazzo di Massa Carrara, del team del vecchio che combatte praticamente per il titolo europeo, ha già vinto il titolo italiano. Poi abbiamo la CapTiu che combatte contro un'altra francese che fa l'europeo. L'iniziativa è patrocinata dal comune di Arezzo, i match avranno inizio a partire dalle 17. Uno degli incontri, stavolta che sono 14, è un numero importante, è un intero pomeriggio fino alla prima serata di eventi con anche spazio per la musica, quindi due cantanti molto importanti che saranno ospiti al Palaestra, quindi sport, musica, spettacolo e il comune non poteva che essere a fianco del team Iachini. E chiudiamo con un servizio che parla di sport ma in maniera diversa, un murales che appunto celebra lo sport e lo hanno realizzato Marciano della Chiana. Avete scelto un murales per abbellire quello che è il muro dei giardini pubblici, un murales che è un omaggio allo sport. Sì, è un omaggio allo sport e per questo appunto l'abbiamo proprio richiesto sullo sport anche perché non volevamo una cosa politica, volevamo una cosa che includesse tutti al di là dei colori e quindi lo sport è un qualcosa che include e l'inclusione la troviamo nello sport e poi non solo. Questa è la prima motivazione. La seconda motivazione è perché qua abbiamo la zona sportiva, abbiamo vinto più bandi sia per rimettere in opera la palestra che è una bella palestra, abbiamo per il campo sportivo, abbiamo vinto 400 mila euro per il campo sportivo e per un campetto qua dietro tra la palestra e i giardini per i ragazzi. Il buono del bello, caratteri che richiamano assolutamente all'antica Grecia dove lo sport era davvero un valore. Sì, lo sport era un valore, si fermavano le guerre per motivi sportivi, cioè l'Olimpiade serviva anche a questo e ci sono manifestazioni come a Maratona per esempio di ritardi anche nell'affrontare battaglie per pettinare i capelli dei guerrieri. È il gesto invece che caratterizza l'essenza della bellezza formale greca, cioè l'attenzione alla bellezza come valore di qualcosa che va oltre la forma. E con questo servizio si chiude la pagina sportiva di oggi, grazie per essere stati con noi e appuntamento a Romani.